Musica E' prevista la visita del presidente Obama a Cuba, due parole su questo. Sì, oggi si ha anunciato la visita del presidente Obama a Cuba, esperiamo che questo sia un passo più che contribuya a la normalizzazione delle relazioni tra i nostri paesi. E' un processo che abbiamo iniziato, che tendrà come base i precepti del derecho internazionale, la Carta delle Nazioni Unite, però anche la declarazione della zona di pazza dell'America Latina. In fin, vogliamo transitar un cammino dove dovremo lavorare di conjunto, però sempre sulle base di igualdad e respeto, come ha stato fino a questo momento. E che, per supuesto, includerà la eliminazione del bloqueo che ancora abbiamo e la eliminazione della base naval di Guantanamo. Però, come ho detto, restableciamo relazioni, ora vamos a fare un cammino di normalizzazione con tutti questi elementi. Il presidente Obama sarà in Cuba accogito con il respeto e la hospitalità che caratterizza al pubblico cubano con tutti i presidenti e visitanti. Il presidente Obama sarà in Cuba accogito con tutti i nostri paesi.